C'è una modesta quantità di acqua? La macchina si è sporcata con questa polvere che adesso io vado a farvi vedere, è una polvere bianca, eccola qua, allora voi se adesso fate caso c'è una polvere bianca ossidata, allora se io faccio così strofinando tolgo l'ossido perché cadendo si è ossidata e rimane quello che c'è dentro e sapete cos'è? Polvere di alluminio. Spero che si veda con la camera del telefono, comunque a occhio nudo si vedono dei perlini con la luce e questa qua praticamente ce la siamo respirato, adesso mi spiegate come fate a buttare fuori dal corpo questa roba qui? Quindi quando piove poco e dopo giorni che hanno erorato state molto attenti perché l'acqua che viene giù è strarica di questa schifezza, cioè non dovete neanche prendere l'acqua in testa quando è così, è pericolosissima questa roba qua. Fatelo vedere a più persone possibili, è un dovere civico.